Non vede una piccola moto-ape e la travolge. Grave incidente stradale ieri intorno alle 21.30 sul viadotto Acragas. Il bilancio è di tre feriti, uno è grave. Coinvolti due mezzi che viaggiavano entrambi nella stessa corsia in direzione Porto Empedocla Grigento. Una macchina, una Toyota e Cubianca con alla guida una ragazza grigentina di 33 anni che viaggiava da sola avrebbe tamponato una mini-ape rossa che a quanto pare percorreva la strada a luci spente. Alla guida del piccolo mezzo a tre ruote un uomo di 50 anni che viaggiava con un amico trentenne, entrambi di Grigento. L'impatto è stato violentissimo, la petta si è accartocciata su se stessa schiantandosi contro il guardrail che ha evitato che i due precipitassero dal ponte. Ed ha poi finito la sua corsa rimbalzando in mezzo la carreggiata. Uno dei due uomini a bordo ha battuto violentemente la testa contro il parabrezza, ferito anche l'altro viaggiatore. La city car dopo l'impatto si è fermata alcune decine di metri più avanti. La ragazza che era alla guida ha riportato solo qualche lieve contusione. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare ed estrarre i due uomini delle lamiere contorte dell'Ape. Sul posto è immediato l'intervento delle forze dell'ordine, le volanti della polizia e una gazzella dei carabinieri che hanno provveduto ad interdire il traffico veicolare per alcune ore e si sono occupati dei primi rilievi. Tre ambulanze e un'automedica hanno dato il primo soccorso ai tre feriti trasportati tempestivamente al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Uno, come detto, è in prognosi riservata.